Possiamo vedere questo passaggio tra un teatro più legato a una dimensione di svelamento di una dimensione personale interiore fino a una denuncia politica appunto dell'orrore della nostra politica attuale fatta in qualche modo di niente come poi si vede benissimo in conferenza stampa. Il ministro della cultura ha gli stessi obblighi del capo dei servizi segreti. Noi riteniamo sia giusto avere un atteggiamento sano ed energico ma allo stesso tempo un mobbito nei confronti delle nostre radici culturali e degli obblighi che comportano obblighi che sottosciano naturalmente alla priorità del libero mercato. E dove vanno a trovarla una punta così bella? Ci sono punte, punte signor Fibs! So benissimo che ci sono punte, punte ma dove vanno a trovarla una punta del bastone emisferica monopalla più bella di quella! Eppure l'oro di quella non ne vogliono più sapere. Sono sconvolto, sconvolto. Cos'altro avanti, Will? Sei inutile nascondermi la verità. Beh, mi duole il cuore, signor Fibs! Ma non ne vogliono più sapere neanche dello stantuffo spirale scavaflauto ad alta pressione! Lo stantuffo spirale scavaflauto ad alta pressione? Ma è ridicolo! Cosa diavolano contro lo stantuffo spirale scavaflauto ad alta pressione? Tutto quello che posso dire è che c'è un gran fermento attorno a quei prodotti e anche attorno allo sforo di spurgo laterale grigio canna di fucile con impugnatura! Vediamo situazioni assolutamente quotidiane della vita quotidiana ma che poi appunto prendono un altro spessore e ci rimandano ad altra una profondità grazie a questa straordinaria parola di Pinter che a poco a poco ti fa entrare in questi mondi surreali ma comunque estremamente sempre molto divertenti e enormici. Non la molla di rinvio con manubrio e senza manubrio senza manubrio e con manubrio quella con manubrio e senza manubrio senza manubrio con manubrio e senza manubrio con e senza e nostra precisa tensione dalla connessione dalla soddizione con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione a disposizione grazie grazie signor Ministro per le sue parole il piacere è tutto mio posso aggiungere un'ultima cosa? ma certo sì la nostra filosofia è ogni la sala è fiducia non abbiamo rinunciato al nostro humus di siciliani pur rispettando completamente la scrittura di Pinter potevamo permetterci grazie a questa grandissima intelligenza di Pinter di poter andare anche sulle nostre corde proprio sicule come per esempio c'è la fermata richiesta potrebbe essere perfettamente una donna di Palermo che parla e se la prende con uno che alla fermata dell'autobus probabilmente ha fatto delle insinuazioni e lei risponde cominciando a parlare da sola o con gli altri attorno come spessissimo ci capita di vedere nella nostra città Togloditta gli va bene che non lo denunzio fai una semplice domanda scusi signora senta mi sa dire se c'è un autobus che da qui mi porta a Maldro Arci da molti anni io non posso fare a meno della musica negli spettacoli e soprattutto della musica dal vivo da parecchi anni ormai mi accompagno con questa jazzista Rita Collura carissima amica ma interpreta e soprattutto musicista pazientissima e che entra sempre completamente dentro lo spirito delle creazioni che facciamo e quindi per me la presenza del sax che tra le altre cose è una voce solista una quarta voce protagonista che ampia le emozioni che ciascun brano porta in sé ovviamente trasferendole su un piano più alto come appunto solo la musica può fare Avere seguito questa intuizione delle solitudini e delle geometrie mi ha confermato una cosa che io ricerco in qualche modo non soltanto come artista ma fondamentalmente come essere umano la possibilità di offrire e offrirmi tolleranza nei confronti delle diversità dell'essere umano perché quello che fa Pinter è di far emergere un'infinità di microcosmi individuali molto spesso emarginati nella maniera ludica o anche nella maniera un po' pazza ma che però hanno sempre a che fare con l'uomo e quindi un po' anche stimolare e dare possibilità di esistenza e di visibilità a molte realtà che vengono in questo momento e soprattutto nella nostra società completamente sommerse e dimenticate tutto qui in questo momento Anyway, I love you so Well, 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 my lord Yeah!